Poltronieri, secondo corso, studio numero 8, chiave di soprano, tempo 6 ottavi, tempo binario composto, tonalità Mi minore. Per semplicità di lettura si porta la semiminua col punto a 40 bpm. Mi, Fa, Sol, Si, Do, Si. Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Sol, La, Fa, Mi. Re, Sol, Si, Re, Do, Si, Do, Mi, Re, Do, Si. Sol, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Sol, Mi. La, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, La, Fa, Re, La, Si, La, Sol, La, Do, La, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Fa, La, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Mi, Si, Do, Sol, La, Fa, 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 Sol, La la do sol la do si la so fa mi re mi fa sol la si do la sol sol la si do re fa mi fa so fa mi mi fa sol la si do do la fa mi re mi si la so fa mi do si fa re fa si do re mi la sola fa sol sol la la si la fa sol mi si si la la so fa mi re si si la fa sol mi si mi fa la so fa so mi fa so mi do si la sol fa sol la si do si la so fa sol re mi fa sol re mi fa sol mi sol si do re mi fa fa mi